Allora, ovviamente seppure a malincuore l'attività, il mio incarico qui a Cetraro volge al termine nel corso della prossima settimana, rimane fermo che anche chi avrà modo di prendere il testimone e di seguire il percorso già intrapreso anche con il flag o comunque con tutte le altre amministrazioni che si fanno parte attiva per promuovere sia gli stocchi ittici locali, ovviamente nel rispetto del mare, della tutela della fauna, rimane fermo che seppure io abbia in parte concluso la mia esperienza qui a Cetraro, sicuramente nel solco già tracciato verranno promosse anche le attività future da chi continuerà nell'azione amministrativa al comando della Guardia Costiera di Cetraro.